Prepariamo la piadina e in un piano da lavoro mettiamo la farina, lo strutto, il sale ed il bicarbonato. Amalgamiamo un po' lo strutto con la farina e poi aggiungiamo l'acqua e iniziamo ad impastare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche della campanella. Sarai sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e attiva le notifiche della campanella. Grazie a tutti. Dovrà essere liscio, omogeneo e sodo. Adesso deve riposare. Adesso dobbiamo dividere in porzioni. Grazie a tutti. 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 la ricetta con PAGLE. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche della campanella. Sarai sempre aggiornato sulle nostre novità. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!